Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare del vero amore, di cosa significa amare. Quando si dice io ti amo, si dice io ti amo e amo tutto di te, ti amo nella tua totalità. Non esiste un amore parziale, ma un amore totale. Amo tutti i tuoi dettagli, amo la parte più intima di te, la parte più infima di te. Gli amori ideali durano il tempo di una notte, il vero amore si lega sulle imperfezioni. La rappresentazione di amore ideale è un amore che è destinato a finire, alla prima prova, mentre è proprio attraverso l'imperfezione che si leggono gli amori più importanti e più profondi. Questo è per dire quello che poi è alla fine il vero significato di amore e il vero significato della parola ti amo. Ti amo in tutto il tuo insieme, nella tua totalità, con i tuoi pregi e con i tuoi difetti e anzi è proprio attraverso i tuoi difetti che costruiamo insieme un amore. Queste parole le ho prese, ho preso quindi spunto da, secondo me, una persona della nostra epoca molto brava, un saggista, uno psicanalista, il suo nome è Massimo Recalcati, che a mio avviso non potrebbe, non avrebbe potuto dare una definizione migliore di quel che è il significato della frase io ti amo. Ho voluto riportare questo concetto quasi di pari passo, quindi identico, renderlo noto anche voi perché in queste poche frasi c'è l'essenza di quello che dovrebbe essere ed è l'amore. Ciao ciao! Ciao! Grazie.